La Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato mezzo chilo di cocaina e ha arrestato un corriere albanese di 46 anni. Nel corso dell'abituale attività di controllo una pattuglia delle fiamme gialle ha fermato a Città Sant'Angelo nei pressi di un noto distributore di carburante. Una Ford Focus guidata appunto dal cittadino albanese il cui evidente stato di agitazione ha spinto i baschi verdi ad approfondire il controllo con l'ausilio di una unita cinofila che intervenuta sul posto ha segnalato con insistenza la presenza di sostanza stupefacente sotto il vano cruscotto anteriore del lato passeggero. Una volta smontato all'interno del cruscotto è stato rimanuto un involucro di cellofan sottovuoto ricoperto di un palloncino in gomma contenente circa mezzo chilo di cocaina, un confezionamento ad arte appositamente realizzato al fine di sfuggire al fiuto dei cani antidroga che però non è servito a ingannare il super addestrato pastore tedesco Daphne. L'insospettabile corriere albanese, privo di precedenti specifici per traffico di sostanze stupefacenti, è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato portato in caserma per gli ulteriori approfondimenti del caso. Avvisato il PM di turno, il corriere è stato tratto in arresto in carcere per il reato di traffico e spaccio di stupefacenti.